playoff over 35 e questa sera dunque cominciano i quarti di finale seconda partita quella processo sparta good fellows per sparta abbiamo il nostro amico davide paiuca ciao buonasera a tutti invece abbiamo per good fellows colciaghi ciao buonasera allora voi terzo posto legione sud quindi ottima stagione del rientro nei campionati sportlan comunque sei soddisfatto in ogni caso se noi come avevo detto in alcune interviste l'abbiamo fatto per il nostro per salvatore fazio che è venuto da mancare quest'estate e ci siamo iscritti proprio per in memoria sua ci siamo qualificati ai playoff addirittura al terzo posto con una squadra di vecchietti adesso ce la giochiamo come va va comunque un ottimo risultato anche voi ottimo risultato secondo posto legione nord quindi insomma una grande stagione ovviamente adesso bisogna mettere la ciliegina sulla torta perché altrimenti tutto quello che si è fatto finora non è servito sì certo che sta ripermettendo però ce la giochiamo nel senso che a questo punto qua vale tutto e di conseguenza dobbiamo dobbiamo essere concentrati e cercare di giocare come sappiamo è anche vero che lui insomma ci hanno minacciato e ci hanno scritto un tweet sulla partita forse il personaggio è qua presente l'ho scritto io lo ribadisco il problema che bisogna andare a prenderlo denis per fargli male non lo prendi perché ti scappa via quindi con la guilla così si è vicido bene allora datevi la mano segno di fair play buona partita bocca al lupo bocca al lupo Via, via! In aiuto! Come arriva Ander? Sì! Bravo, Ander! Bravo, Ander! Bravo, Ander! E sopra la barba! È lì! Bravo, danno! Bravo Luca! Bravo Luca, stanno solo! Bravo Luca! Grande! Grandi! Solissimo! Aiutalo! Fai gol! Bravo Luca! Grazie! Ottimo, ottimo! Colo! Forza! Forza! Terminato il primo tempo, vantaggio 1-0 di Sparta su Goodfellows con la segnatura al quinto minuto di Paganello V'avete lasciato in due? Sì! L'hai lasciato! Dai 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 dai! Porco zio! Vantana! Chiudo! Dai 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 dai! Dai! Sì! Sì! Dai 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 dai! Sì! Dai 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 dai! Vai enti! Guarda vai! Ehi! Scusa! Ehi! Vamo si è! Sono davanti, sono davanti, non fatteno tirare, non fatteno tirare, con calma, con calma, difetto, fino a destra, torna! Angelo, Angelo! Ah, uscire! Dai, dai! Grande, vecchio! Dai, ste! Fala, buco! Bora, buco! Bora, buco, buco! Va bene, va bene, va bene! Fala, buco! Fala, buco! Gabi! Dai, dai, stai, dai. Dai, 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 stai, va bene. La torta è in culo! Bravo, Roby! Bravo, Roby! Dai, dai! Forza, stai, sei il numero uno. Siamo con Roberto Stagni. Sì, il bello del match della partita vinta ai Rigori con un po' di fatica da Kudfellovs contro Sparta, uno a uno e quindi bellissimo il match, poi il parato Rigori decisivo, l'unico parato di tutta la serie, insomma è bastato. Eh sì, a volte basta poco ed è sufficiente. No, è stata una bella partita, sono una bella squadra a Sparta, io li conoscevo perché ci avevo giocato altri anni contro con altre squadre, siamo stati bravi, siamo stati molto ordinati, abbiamo preso soltanto gol nel primo tempo. Potevamo forse alla fine spingere un po' di più e provare a vincerla, ma va benissimo così. Prima di due quarti di finale, tutte e due terminati ai Rigori, segno che, insomma, c'è grande equilibrio, le squadre che sono arrivate fino a qui, almeno con le viste stasera, si equivalgono tutte. In teoria dovrebbero essere più forti quelle del girone sud, visto che le prime due hanno fatto fatica contro la terza e la quarta di là, però arrivati a questo punto no, non significa niente, sono tutte forti e chi la gioca meglio la vince. Bene, allora grazie a te, complimenti, questo è il primo Man of the Match di BetAdvisor, il nostro partner online, la statuetta che diamo sempre al Man of the Match. E poi ricordiamo anche Space23, il nostro partner, negozio di articoli sportivi a Milano, Corso Gabibaldi 104, trovi tutto quello che si può trovare per gli sportivi. Grazie. Grazie a te, ciao. Ciao a tutti.